Gentili telespettatori, buona giornata. Sembra quasi che il governo mi abbia ascoltato. Quante volte chi mi segue da quattro anni, e ce ne sono tanti, quelli che rendono pubblica la loro iscrizione, si vede, hanno un pallino rosso e io posso vedere, sono iscritti dal canale da tre anni, da quattro anni, da sei mesi. Ce ne sono tanti che sono iscritti da quattro e oltre di anni su questo canale. E chi è iscritto da tanto tempo sa che ho sempre detto, sempre 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 detto, di utilizzare le caserme non più in uso. Ad esempio io ho fatto il militare nel secondo battaglione del genio ferrovieri a Torino, non mi ricordo più come cavolo si chiamava la caserma, neanche su quale corso era, perché la mia mente così se ne va, purtroppo. Quella caserma, solidissima, pulitissima, un quadrato gigantesco con dentro un parco, muri alti, insomma è perfetta per fare un carcere. È perfetta, basta che metti delle tramezze, perché c'erano le camerate, che io mi ricordo perfettamente, ma io ho anche un bel ricordo del militare che ho fatto, guardate, tanti invece sono stati, per loro è stato un anno terribile, per me non lo è stato. Va bene, di queste caserme ce ne sono in Italia oserei dire centinaia, magari qualcuna messa un po' peggio, qualcuna messa meglio, però non devi costruire da nessuna parte, non devi cementificare niente, prendi queste caserme che hanno dei muri spessi due metri, perché sono fatte bene come le facevano una volta, queste caserme sono perfette. Sovraffollamento delle carceri? Siamo pieni di caserme. Io ci avrei messo dentro tutti i truffatori del reddito, gli avrei fatto passare la voglia di truffare lo Stato. Di Maio non diceva che chi avrebbe osato truffare l'Italia per mezzo del reddito di cittadinanza sarebbe finito sei anni in carcere, io me lo ricordo questo che diceva Di Maio, solo che non è mai finito nessuno in carcere. Io li prenderei tutti quelli che hanno truffato lo Stato, li metterei tutti in galè, altro che con la condizionale. Ma quale condizionale agli arresti domiciliari? No, dietro le sbarre, eh sì, dietro le sbarre. E così il piano nordio per l'emergenza carceri è proprio le caserne contro il sovraffollamento. Finalmente ci voleva un governo di destra per fare quello che io vi ho sempre detto. O qualcuno mi ha sentito, o più semplicemente la pensiamo nello stesso modo. Io sto notando che tante cose che dico poi vengono fatte. Che strane coincidenze. Sarà che la pensiamo allo stesso modo o sarà che magari questo canale che ha ricevuto quasi 280 milioni di visualizzazioni, Teleitalia, Teleitalia Seconda Rete quasi 10 milioni, diciamo che tra i due canali più Facebook sono 300 milioni di visualizzazioni, forse un po' di influenza ce l'hanno avuta e ce l'hanno. Forse, eh? O magari sono delle semplici coincidenze. Così il ministro nordio a Torino, dopo quello che è successo in questi giorni, dice più pene alternative per reati minori. No, 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 nordio, se tu prendi una pena, devi andare in carcere. Basta con sta storia che tutti devono stare a farsi il carcere a casa. Eh che cavolo, eh. Nordio ci tiene a precisare che non si tratta di un'ispezione né di un intervento cruento ma di assoluta vicinanza. Il ministro si è recato nel penitenziario il giorno dopo che due persone si sono tolterite. È una azzurra Campari perché l'altra si chiama azzurra Campari è una signora, e l'altra Susan John. A chi gli chiede soprattutto conto di questi casi, le condizioni sono un po' brutte perché c'è sovraffollamento. Il ministro dice dovremmo finalmente, visto che lo Stato non deve abbandonare nessuno e non possiamo lasciare che succedono nelle carceri alcune cose. Dobbiamo prendere, dopo tre ore, all'interno del penitenziario, lo russo e cotugno. Nordio ha poi chiarito in conferenza stampa il suo progetto per ridurre l'affollamento, che sintetizza con il concetto di detenzione differenziata. Un 41 bis non può essere equiparato a chi ha commesso un reato minore e deve essere curato. C'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi. Eh sì, guardate che nella caserma dove ho fatto io il militare c'erano delle camerate che tu le puoi dividere in quattro e fai dei posti comunque migliori di una cella di un carcere sicuramente. Dobbiamo trovare forme alternative, dice Nordio. Alcune esistono già come i domiciliari, altre come queste non sono sufficienti a colmare il gap tra necessità di garantire sicurezza allo Stato e garantire trattamento rieducativo. Si può fare solo aumentando la disponibilità di edilizie carcerarie. L'unica soluzione è il riadattamento delle caserme. Bravo Nordio, finalmente ci siamo arrivati, è quattro anni che lo dico di queste caserme dismesse, quattro lunghi anni, perché poi se non le utilizzi queste caserme cominciano a diventare poi diroccate, a cadere a pezzi e poi diventano dei ruderi, perché dopo che si passa un certo limite diventano poi dei ruderi non più utilizzabili. Come la caserma dove io ho fatto il carro ad Albenga, che ho visto in alcuni video che è proprio in stato di abbandono, proprio totale, la gente si è portata via anche gli infissi. Quindi una caserma che era perfettamente efficiente, me la ricordo, purtroppo con la riduzione delle forze armate, la fine del servizio di leva, molte strutture sono state chiuse, poi sono chiuse, sono lì, serviranno magari in un futuro e poi il tempo che passa, l'incuria, la pioggia, l'erosione, poi diventa la natura che prende il sopravvento, ti si fanno gli alberi anche dentro le camerate, per non parlare poi delle tubature, i servizi, poi passano due o tre anni e comincia ad andare tutto a perdersi in maniera irrecuperabile. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.